Si è svolta il 18 maggio la conferenza stampa in occasione del quarto rally del Matese, a cui hanno preso parte varie attualità locali. Durante la conferenza Enrico Girardi, nella duplice veste di pilota ed organizzatore dell'evento, ha illustrato ai presenti il percorso e le tante novità di quest'anno. Inoltre si è discusso molto sulla sicurezza per garantire il massimo al pubblico presente e ai piloti. Al margine dei lavori abbiamo ascoltato il sindaco di Pietravaerano, il dottor Francesco Zarone, e il direttore di gara Antonio Rezzullo. In qualità di sindaco di Pietravaerano, come vi state preparando in occasione di questo attesissimo evento? Andando con molta emozione, è un anno consecutivo che ospediamo la partenza e ospichiamo, come dissi l'anno scorso, che questa diventa tradizione, diventa una felice tradizione per Pietravaerano. Noi ci auguriamo che questa corte continua a crescere come sta succedendo e ci auguriamo che la partenza sia sempre Pietravaerano. Questo ce l'auguriamo perché c'è una ricaduta anche, voglio dire, turistica, lo avvertiamo, i ristoranti pieni, l'albergo pieno. E poi è bello se diventasse una tradizione, andremmo fiere di ciò. Ci stiamo preparando con emozione e con attenzione. Quindi i vigili, la protezione civile, i cittadini stessi, tutti porremo la massima attenzione perché la sicurezza prima di tutto. Però cercheremo di conoscere sicurezza a divertimento. Quindi ognuno di noi si sta organizzando, tutte le famiglie, il balcone è più comodo, eccetera, eccetera. Aspettiamo con apprezzione l'evento, ma con la massima attenzione, ma contenti e sereni. I motori sono caldi. Cosa dobbiamo aspettarci in vista di questa nuova edizione? Beh, dobbiamo aspettarci sicuramente una nuova edizione dove ci sono sette prove speciali, di cui una ripetuta tre volte, una due volte, altre due due volte. Due si svolgeranno il sabato sera e cinque si svolgeranno la domenica. Si è fatto particolarmente attenzione e sicurezza degli equipaggi, sia passiva che attiva. Quindi abbiamo un spiegamento di circa oltre 100 eroti commissari. Abbiamo tutte le prove speciali, anche quelle dove la normativa chiederebbe una sola ambulanza, noi ne abbiamo messe due, se non addirittura tre. Quindi sotto l'aspetto sicurezza, piloti e pubblico siamo al massimo. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che questa gara, visto che è alla quarta edizione, visto l'impegno che ci stanno mettendo gli organizzatori, che cresca. Cioè quest'anno è stata richiesta da parte sempre dagli organizzatori la presenza dell'osservatore da parte della federazione, la C-Sport, che verrà qui a giudicare l'operato di tutta la manifestazione. Questo per poter avere un coefficiente per il prossimo anno rispetto a quello che accadrà quest'anno. Quindi insomma i motori ci sono, gli iscritti ci sono. Abbiamo detto che siamo oltre i 40, quindi c'è già un incremento rispetto all'anno scorso. E questo dovrebbe far partire. Ho notato adesso con le autorità che c'erano qui che c'è molta passione, quindi alla base di questo sport poi alla fine c'è la passione. Quindi ci aspettiamo che questa manifestazione cresca, perché il nostro impegno, soprattutto l'impegno degli organizzatori, che ci mettono tempo e denaro, possa avere dei risultati positivi. E da San Potito Sanitico è tutto, Valentina Monte per casertasera.it